Buongiorno a tutti, io mi chiamo Chiara Salmoiraghi, sono responsabile della certificazione di prodotto secondo gli schemi Ocotex presso Centrocot, che è un istituto di test e certificazione e formazioni in ambito tessile, pelle e conciario. Oggi parleremo dello standard 100, che è la certificazione di prodotto per i prodotti tessili della famiglia Ocotex. I valori e i principi fondamentali che ispirano l'Ocotex sono tracciabilità, trasparenza, affidabilità e fiducia, tracciabilità lungo la supply chain e tracciabilità del prodotto finito, trasparenza anche qua lungo la filiera, ma trasparenza anche di quello che sono i nostri standard, che sono tutti visibili sul nostro sito, trasparenti, l'RSL è pubblicata, affidabilità verso i fornitori e fiducia che è quello che noi vorremmo trasmettere con quelli che sono i nostri prodotti, i nostri loghi. Qui ci sono un po' di numeri rispetto allo standard 100 e all'associazione Ocotex, che nasce nel 1992 ad opera di tre istituti di lingua tedesca, che sono l'istituto austriaco, l'istituto tedesco e l'istituto svizzero, che a Zurigo fondano l'associazione Ocotex. Ad oggi ne fanno parte 16 istituti, 15 in Europa e uno in Giappone. 100 sono i paesi nel mondo che abbiamo raggiunto con questa certificazione, 10.000 aziende nel mondo e più di 16.000 certificati. Queste invece sono le percentuali di diffusione del nostro certificato nel mondo, dove purtroppo non deteniamo più come Europa il maggior numero di certificati, ma l'ago della bilancia chiaramente si è spostato in quei paesi dove c'è una maggiore produzione tessile. Abbiamo tra i nostri stakeholder tutta una serie di associazioni e organizzazioni non governative, dove qui ne ho messi solo una piccolissima parte. C'è anche ZDHC tra questi e sia Ocotex sia Centrocot si sono affiliati a ZDHC in quanto ne condividiamo gli obiettivi e il percorso che porta alla sostenibilità. Ma tornando al nostro standard, noi dobbiamo rispondere a un'esigenza dei consumatori. I consumatori oggi chiedono prodotti tessili sicuri, ma che siano anche prodotti tessili performanti, di un facile utilizzo, quindi easy care, ma il consumatore odierno è un consumatore responsabile, per cui ci chiede anche che tutta la filiera sia sostenibile, che il prodotto sia realizzato in maniera sostenibile e in maniera etica. Il problema, se vogliamo chiamarlo, dell'industria tessile odierna è il fatto di una grossa frammentazione, per cui un prodotto tessile finito può avere le varie fasi della produzione in paesi geograficamente molto distanti tra loro. Questo rappresenta per noi un problema perché ogni paese ha la sua legislazione ambientale, per cui diventa difficile riuscire a controllare le sostanze nocive in un prodotto che viene invece realizzato in paesi dove queste leggi sono diverse, differenti. Questo gap è quello che abbiamo voluto colmare con lo standard 100, quindi noi abbiamo uno standard con un RSL, quindi un elenco di sostanze nocive che è uguale per tutti i prodotti certificati. Quindi indipendentemente dal paese di produzione il prodotto viene sempre testato per le medesime sostanze con i medesimi limiti, quindi in tutte le fasi della produzione e per tutte le componenti del prodotto. facendo un passo indietro riguardo alla nascita dello standard 100, nel 92 viene pubblicata in Germania la legge tedesca sui beni di primo consumo. In questa legge c'era una sezione apposita per i prodotti tessili, nella quale venivano indicati tutta una serie di limiti per determinate sostanze che non dovevano essere superati nei prodotti tessili in commercio in Germania. Tra queste, ad esempio, c'erano le 24 amine aromatiche cancerogene. Quindi a quell'epoca non c'era per i produttori, gli esportatori in Germania un mezzo per poter garantire il rispetto di questa legislazione tedesca. Ecco che con la nascita dello standard 100, queste figure hanno avuto la possibilità, tramite lo standard, di dare garanzia del rispetto di questa normativa tedesca. Fate conto che per quanto riguarda le amine aromatiche, questa è stata recepita a livello europeo solo nel 2002. Con lo standard 100 noi effettuiamo tutta una serie di analisi sistematiche sul prodotto, partendo da una valutazione dei rischi. Quindi dapprima si fa una valutazione del reale rischio della presenza della sostanza nel tessile e dopodiché si procede al test con la nostra RSL che viene annualmente aggiornata da parte dell'associazione. Insieme a questi controlli, proprio sul prodotto, vengono fatti anche degli audit aziendali in cui viene verificata la tracciabilità, il sistema qualità aziendale e per garantire l'alto livello dei prodotti Ocotex si fanno anche dei controlli sul mercato per cui vengono campionati dei prodotti sul mercato e vengono analizzati. I test sono fatti con delle norme di prova riconosciute. Laddove le norme di prova non esistono per il settore tessile, provvediamo all'interno dell'associazione, contando su una community di 16 laboratori, a realizzare il metodo analitico, a mettere a punto e a validare il metodo analitico. Un altro fattore importante è che attraverso i test di laboratorio valutiamo esattamente tutti i vari modi in cui la sostanza può entrare in contatto con il nostro corpo, quindi oralmente, piuttosto che per contatto per assorbimento cutaneo, piuttosto che con i test per emissione verifichiamo l'inalazione di eventuali sostanze pericolose. Qui vi ho suddiviso le sostanze che noi andiamo a determinare in tre macro gruppi. Le sostanze vietate per legge, quindi regolamentate, di cui qui vedete le famiglie di sostanze. Le sostanze all'interno dell'RSL in realtà sono molte di più, sono più di 300. In rosso vi ho messo le nuove sostanze, quelle introdotte nel 2019. Quest'anno abbiamo introdotto la DCA e i silossani perché è l'ultima introduzione all'interno dell'SVHC del RIC. Altre sostanze pericolose sono sostanze che non sono normate da leggi cogenti, ma sono sostanze di cui conosciamo la pericolosità e sappiamo che vengono usate nella filiera tessile. In questo caso, volevo sottolinearvi il glifosato di cui abbiamo sentito parlare prima, anche questo viene testato per lo standard 100%. Quest'anno però il requisito non è stato fissato, quindi teniamo sotto controllo questa sostanza, diamo il risultato nei nostri test report, ma in questo momento non abbiamo ancora fissato un limite. Altri tipi di test che noi facciamo sono per la qualità del prodotto, quindi pH, solidità del colore e test sugli OGM nel cotone. Quindi facciamo un'estrazione del DNA del cotone per verificare che il cotone sia effettivamente bio, quindi misure sul campo del cotone bio. Le classi di prodotto in cui possiamo certificare i nostri prodotti sono queste quattro, quindi la classe 1 prodotti per bambini a di sotto di 36 mesi, classe 2 tessili a diretto contatto con la pelle, tessili da esterno e la classe 4 sono prodotti per arredamento, per decorazione. Un'altra caratteristica dello standard 100 è quella del sistema modulare, cioè tutte le componenti di un prodotto possono essere certificate separatamente. Questo permette due grossi vantaggi. Il primo è sicuramente economico, cioè il fatto di suddividere i costi lungo tutta la filiera produttiva. E il secondo, secondo me ancora più importante, è la suddivisione della responsabilità, cioè ogni sito produttivo certifica ciò che può esattamente controllare. Questo è quello che copre il certificato standard 100, questo lo trovate scritto su ogni certificato e che sono nell'ordine. L'allegato 17 del RIC, noi lo copriamo completamente, anche le sostanze introdotte sul tessile dell'ultimo aggiornamento. Molte di queste sostanze erano già presenti nello standard, anche prima di questo aggiornamento RIC. Qui non l'abbiamo scritto, non lo possiamo scrivere sul certificato, ma lo standard 100 copre anche la maggior parte delle sostanze, anzi tutte le sostanze SVHC di pertinenza del tessile. Il Cipsia copriamo per quanto riguarda il piombo negli articoli per i bambini e il GbStandard 18401, lo standard cogente cinese. Ultima informazione che vi volevo dare è il concept Okotex, tutto ciò che fa parte del nostro portfoglio. Quindi Okotex non è solo certificazione del prodotto finito, quindi dell'output che può essere tessile certificato con lo standard 100 piuttosto che prodotti in pelle certificati con l'header standard, ma abbiamo la possibilità di certificare anche i prodotti di input della filiera, quindi con l'Ecopassport che è un certificato che permette ai produttori di prodotti chimici di entrare a livello 1 o a livello 3 nel gateway. Inoltre per quanto riguarda la sostenibilità del prodotto tessile abbiamo la certificazione STEP che è la certificazione proprio di che riguarda il processo, certifica proprio l'azienda in tutte le fasi del suo processo misurando quanto un'azienda è sostenibile sia per quanto riguarda il tessile sia per quanto riguarda tessile cuoio. Grazie a tutti, io vi lascio qua i miei contatti perché nel pomeriggio non ci sarò, quindi se avete bisogno mi potete contattare direttamente a Centrocot. Grazie.